correre correre che il sole scappa ci scappa il sole ce lo siamo goduti con la minuqua in terrazzetta è una bellissima giornata blu tutta blu le colline sono blu il cielo è blu il cielo è sempre più blu no non mi viene in mente il cielo è grido il cielo è blu no ma è blu è blu è blu e poi ci sono le cime innevate è bellissima c'è quella bella cornice che non riesco a prendervi mannaggia non ho filtri mi si è secata la rosellina speravo sbocciasse sarà un pochettino sbocceranno a marzo ma questa non mi sa un po prima è oppure campato oppure campato il geranio 1 la mia sa si salvia la mia maggiorana sta bene il sedano sta lì escono cose bene lei è carina mi piace tanto ci sono i gettini dei bulbi che escono fuori e sì ormai il sole le andrà allora cosa vi faccio vedere cosa vi faccio vedere vi faccio vedere questi filati che ogni tanto vi ritiro fuori quindi il dan e cashmere di lana e cardate il nanna il nanna guardatelo bene il nanna il nanna è un filato nato per bebè è leggermente melangiato guardate quanto è simile all'amora come spessore a sinistra abbiamo un azzurro dell'amora e l'amora è uno dei filati più belli più conosciuti e interpretato in vari modi da parte di lana e cardate che è una grandissima azienda italiana che troppo e poco troppo pochi italiani usano e fanno conoscere troppi pochi design troppi giapponesi ci capiscono meglio e sotto abbiamo un lamora industriale cioè è nato per la maglieria artigianale e industriale è un filato che non è arrivato al banco mentre questi sono confezioni di filati da banco il lana e cashmere il lamora il lamora cotto era meraviglioso era un filato che ricordava veramente il feltro era feltro bellissimo dei colori bellissimi sono quei filati che ci impiegano tempo ma perché siamo noi italiani siamo un po' zucconi devo dire all'estero un po' meno in questo riguardo allora perché vi faccio vedere questi filati ah intanto vi volevo dire che il nanna che è un filato nato per bebè come vedete vengono indicate le confezioni per le scarpine per il coprifascio un berrettino sapete quanto pesano questi questi cincischietti guardate l'azzurro che io ho già odoperato è un 100 grammi è un 50 grammi lui guardate vediamo se riesco a farvelo vedere eh aspetta attendo stai ecco 25 grammi 120 metri e tanto comunque vedete che bel volume vedete che non è una lana gnecca una lana lucida è un 100% merino guardate che bella che è è polverosa è delicata non è lucida è veramente spugnosetta è morbida ma non è viscida non è quella merino viscida che vedo usare per i bambini ecco perché noi in famiglia ci siamo affezionati ad esempio allo scozia perché ha una bella mano ha una bellissima mano morbida non gnecca e che rende bene anche al crochet lui così elastico è veramente l'ideale per il tricot col crochet si rischia di sacrificarlo un po' troppo però è da provare è una è una chicca vedete i filati per bebè sanno essere belli belli e noi ce li abbiamo in italia i filati belli belli questa lana è cashmere che guardate questa è la mischia lui è un filato classico leggermente melangiato ha una è un melange diffuso in maniera diversa dagli altri lana e cardate quasi ricorda dei bottonati quasi 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 allora diciamo che lana e cardate oltre ad essere una grande azienda che produce seguendo le la tradizione bella dei filati di qualità cardati poi parleremo di nuovo di che differenza c'è fra i filati pettinati e i filati cardati tanti dicono ai filati cardati sono di qualità inferiore rispetto rispetto ai pettinati e no signori no dipende dalle fibre dipende da come vengono lavorati dipende da quello che ci volete realizzare per quanto riguarda la maglieria è una meraviglia ma con i filati di lana e cardate sono stati realizzati anche dei tessuti mica indifferenti tipo le belle pezze cotte per un design essenziale io quante cose avevo disegnato per mio conto tutta una collezione quando avevo visto le pezze cotte abbinate alla mora cotto ma mi ero divertita un sacco a casa a disegnare quella collezione e perché vi faccio vedere questi filati che poi le rocche le rocche sono tre sono tutte della mora quindi hanno la stessa percentuale di merino ed angora 70 per cento e 30 della mora che vedete lì nel gomitolo e sono filati da carda follare quindi ecco lo vedete qua tra il campione e la rocca notate la differenza che c'è tra la maglia del campione e la dimensione del filato in rocca perché è stato follato sono filati che vengono preparaffinati in azienda perché nascono appunto per la maglieria artigianale e industriale che differenza c'è per maglieria artigianale non si intende la signora che tricotta o l'artigiana la design che tricotta ma si pensa alla maglieria a macchina quindi una una persona che si occupa di creare delle collezioni con delle macchine in un proprio laboratorio o peraltro anche fino a un tot di collaboratori rimane laboratorio artigiano non si trasforma in industria e quello è artigianato lavorare con una macchina per maglieria dove tu devi seguire ci sono tanti macchinari per realizzare maglieria è artigianato e anche la signora la design il design che produce delle collezioni anche con una semplice macchina brother straconosciuta quella è maglieria artigianale soprattutto se poi il design e l'artigiano producono pezzi unici o su misura questi sono filati che agevolano il lavoro i filati preparaffinati hanno delle scadenze perché il trattamento ha una scadenza dopo un tot si elimina si stacca diciamo dal filato e quindi è necessario reintervenire con la paraffinatura che è una pratica che chi ha fatto o visto fare maglieria sa che con i filati da banco bisogna autoeseguirsi mia madre è stata magliaia sia per la famiglia che avevamo 800 figlioli ma soprattutto per noi ha fatto poco per altri poi per altri era sempre la famiglia la zia c'è la sorella la nipote la nonna c'è la mamma mia nonna qualcosa deve averle fatto quindi noi c'ha proprio vestite mia madre con la macchina per maglieria perché all'epoca conveniva acquistare la nana e farsi le cose adesso abbiamo la possibilità di acquistare ottimi capi anche fatti industrialmente basta saper guardare basta saper leggere le etichette basta saper andare dove andare abbiamo gli outlet che non c'erano una volta e abbiamo anche i mercati che diventano degli outlet a cielo aperto dove possiamo trovare delle rimanenze dove possiamo trovare tante cose anche quelle fallate che poi la fallatura non è poi un difetto sempre che ha creato un grande danno alla al capo ad esempio io acquistai degli stivaletti andiamo sulla calzatura di una notte azienda francese meravigliosa con delle suole spettacolari tipo carri armato di quelle che si piegano bene che vi isolano che non vi caricano di cariche elettrostatiche non mi fanno prendere i cocoloni ed era un cuoio bello spesso morbidissimo tinto con un pigmento particolare mi sono durati anni finché pureste per dispetto non mi ci ho fatto la pipì sopra e non avevo mai freddo potevo stare con dei calzini anche semplici i miei piedi stavano asciutti e caldi e all'origine costavano centinaia e centinaia di euro cosa è successo che durante la fase di concept e tintura del pellame si è macchiata la parte interna e quindi per gli amanti del preciso del perfetto e visto che costavano anche un patrimonio quella macchia quella macchia dentro aveva pregiudicato il valore della calzatura ne ho beneficiato io che con 25 euro mi sono colpata degli stivaletti che ce ne avessi adesso ancora erano meravigliosi così come ho acquistato dei cashmere bellissimi dei bellissimi golfini c'era uno di bloomingdale non so se si pronuncia così con la zip e la parte all'interno garzata un cashmere meraviglioso ce l'avevo indosso l'altro giorno e l'ho pagato 3 euro ed era nuovo mai stato indossato se era stato indossato non si vedeva perché so dove guardare quindi tante cose ho preso al mercato ho preso un come avevo già raccontato un golf tutto a trecce in pura alpaca adulta quindi era bello rustichetto ampio un bellissimo colore con ancora tutti i cartellini di greenpeace attaccati a 3 euro fantastico era fantastico una t-shirt sotto dalle maniche lunghe si stava come con un cappotto quindi bisogna saper comprare quindi mia madre all'epoca invece faceva a casa perché c'era la possibilità di comprare grandi quantitativi di filati nel magazzino nel negozio nel punto vendita delle macchine per maglieria ed ecco che ci vestiva insomma di lana poi stavamo in campagna non più in città c'era un freddo becco dove stavamo aveva voglia della lana e mia madre sarà anche divertita ha fatto dei completi gonna plissè e golf con le stelle quelle norvegesi di lurex i completini azzurri con queste stelle argentate insomma la fatte mia madre poi c'era la zia che faceva le schede quindi ecco perché la paraffina che viene eliminata con un lavaggio che mi è stato insegnato a fare e poi i prodotti giusti ecco tutto il tempo di immersione, lo spiegamento giusto quando è il caso e poi la sbattitura nella centrifuga senza esagerare e sono filati veramente di qualità quindi la versione da banco è la versione questa in gomitolo che è un più capi classico mentre qui abbiamo adesso questo mi pare un quattro capi non me lo ricordo questo è un cablet è il lamora cablet e torniamo ecco qui poi c'è anche il raggio il raggio è un filato in 70% lana sport e 30 acrilico che io ho messo da parte per i calzini perché era una gamma di colori e non sapete che mi sa che è finito il raggio non ci ho fatto mica caso se esiste ancora era un ottimo filato che io fino al 30% di acrilico nei filati similana ci arrivo oltre no a meno che non mi viene giustificato con un qualcosa quindi per la maglieria non lo uso più posso usarlo tutta più per dei capi da esterno tipo c'è un filato particolare che non è completamente naturale lo uso per le rifiniture tipo un bordo tipo una pattina sulla tasca degli effetti qua e là mi dico dove è andata non lo so è scappata vi faccio vedere queste cose questi filati perché quando acquisto le riviste quando guardo dei modelli di altri che mi possono essere di ispirazione per un design mio oppure li copio pari pari che bello quando non ci abbiamo da pensare troppo allora oggi guardiamo questo questo capo che lo troviamo all'interno del burda maglia di questo mese di gennaio 2022 che sarebbe poi febbraio sarebbe il numero di febbraio questa è la copertina ho già campionato questo motivo sbagliandolo però l'ho capito con il queen di lollo crea stavo per dire la ricardata perché lo faccio con i filati che ho quando abbiamo le riviste se siamo persone che facciamo scorta pensiamo anche a quello che abbiamo già in casa anche per campionarlo anche per vedere se quel filato che abbiamo ci può piacere magari in un altro colore e prima di andare ad acquistare facciamo la prova di un motivo di un motivo ad esempio tipo la sciarpa oppure di costruzioni se magari c'è qualcosa che dobbiamo studiare ecco facciamo con dei filati che abbiamo già io sono un amante dei completi in lana è una pazzia secondo me farsi un completo così se poi uno ci pensa tutto sommato non ci vuole neanche poi tutto questo gran mondo invece di fare due golf e mezzo due golf un cappello e uno scaldacollo uno fa un golf un calzone poi alla fine ecco a volte ci spaventiamo per certe imprese e lui mi piace mi piace questo mi piace questo completo mi piace per il collo mi piace per le maniche per la spalla ascesa perché è una bella proporzione fra lunghezza e ampiezza quindi la vestibilità ecco certo io il calzone non me lo farei così aderente ci dovrebbe essere un'altra immagine mi sembrava ecco sì mi piace molto ecco il motivo io non ho quest'addome manco con la pancera però guardiamo il particolare è molto interessante secondo me aggiungerei la costina che mi aveva insegnato a fare una mia amica che aveva realizzato dei calzoni per la signora Biagiotti bianchi ovviamente e la costina davanti diciamo che li mantiene un po' in forma come si realizza la costina davanti si passa la maglia centrale del davanti senza lavorarla e poi a rovescio si lavora quindi viene leggermente accentuata ed è bellino prende una bella forma ovvio che quando indossiamo la lana dobbiamo ricordarci di sollevare i calzoni all'altezza del ginocchio per evitare di deformarli ecco diciamo che a Camilla questi calzoni sarebbero meglio che a me io dovrei ecco allargare allargare la gamba del pantalone all'altezza ecco diciamo appena sotto appena sotto l'anca ecco disegnare sì magari disegno non è che sono così deforme ecco però la gamba un po' più sportiva mi piace di più e quindi ho pensato ma io con cosa le potrei mai fare questo completo ce l'ho i filati in casa sì che ce li ho magari bisogna vedere se i colori mi piacciono e qui nominano un filato che non ho mai sentito infatti c'è scritto novità e il filato si chiama Uviretchi si scrive H Ulivo Varese Imperia Roma Empoli Torino K K cosa è? Koala Imperia e non lo so non lo conosco volevo vedere un attimo la confezione ma me la sono persa ancora non l'ho sfogliato proprio con molta attenzione pagina dopo pagina ho già fatto le mie prime riflessioni all'inizio ci sono un paio di filati questo e un altro che mi interessano anche quel cashmere seta proposto per la sciarpa e quindi io dico un capo così no? che cos'è? un capo sportivo è un capo abbastanza sportivo e anche interessante perché non è sciatto insomma ha un collo che porterei io che amo stare coperta verso il collo ma non sentirmi stretta da quando sono in menopausa non sopporto i colli alti aderenti mi piacciono le maniche abbondanti trovo anche carine queste rifiniture mi piace è una tuta che trovo interessante e non deve essere delicata una tuta perché ha parecchi punti di attrito quindi dalle ginocchia tra le gambe dove ci sediamo dove sfregano diciamo il sopra col sotto sotto le ascelle vabbè come si consumano i golf lo sappiamo quindi deve essere robusto il filato deve dare agio e visto che è in maglia così per me mi deve dare anche calore e quindi subito ho pensato ai filati l'anecardate perché li conosco la resa eccoli qua sia i sottili quindi farei ad esempio il calzone con il filato più sottile che ce l'ho ad esempio questo replica lo stesso colore della rocca che vedete dietro questa invece è sul verde la rocca che vedete dietro è come questa sul verde che ora la spostiamo così lo vediamo meglio insieme ecco qua lui è come l'altra rocca questo è più sottile e quindi sceglierei per il calzone il filato un pochino più sottile e farei il golf un pochettino più spesso anche perché questi sono i quantitativi quindi ho molto più filato nella rocca dove non è un cable e quindi ecco fatto come va chi è che decide decide il quantitativo poi volendo ecco eccolo lì sarebbe sì anche il lana e cashmere potrebbe essere indicato se volessimo fare un completo molto più chic perché il diciamo il monocromatico leggermente melangiato è un pochino più facile e poi magari non tutti amano i colori chiari ed ecco che un completo così lo potremmo realizzare anche con questo tipo di filato perché comunque nella sua morbidezza è un filato abbastanza ritorto è un filato elastico che agevola la vestibilità ed è un filato molto robusto il lamora il lamora è perfetto per questo completo perché è un filato caldo elastico non delicatissimo poi pensando ai filati lana e cardate che ho in casa ho pensato al raggio ho pensato al raggio che mi potrebbe dare un completo sportivo caldo per il 70% di lana robusto per il 30% di acrilico che se non c'è l'acrilico poverino ecco lì ce l'avete io l'ho pensato solo per i calzini ma anche per dei golfettini e dei capi da esterno diciamo più dei capi da esterno e poi sotto un capo caldo naturale al 100% una t-shirt di cotone anche eventualmente per renderlo ancora più caldo e anche stabile nel tempo che cosa ci può aiutare che cosa può essere che aggiunge una nota di tepore di stabilità nel tempo ai filati agli altri filati il kid mohair e quindi una minuscetta portata il cuscino sotto la panchina mica ho capito perché adesso la porto in campagna che da noi è scappato il sole ormai ed ecco che potrei giocare con delle righe di mohair ad esempio se solo volessi fare un qualcosa di quel genere come ho già fatto con il cashmere rosso che mi avete visto nel golf da uomo presentato qualche mese fa oppure semplicemente aggiungere al raggio se volessi lavorare anche con un volume uno spessore un po' più alto anche se di poco con i ferri aggiungerei un super kid mohair assolutamente si renderebbe il tutto più più pannoso anche bello elegante e robusto nel tempo perché una tuta vorremmo rendesse ecco certo io non vi vengo a consigliare le tutte tricot fatte a mano per fare i mestieri di casa sì per una bella giornata all'aria aperta sì ma dipende da quello che dovete fare ecco non per un'escursione di trekking no però se dovete andare a trovare l'amica che fate un picnic all'aperto seduti su delle sedie invece che per terra sull'erba ecco che una cosa così sì una bella passeggiata informale in un bel borgo adesso vi alliego sotto il link per andarvi a fare un giretto in una cittadina francese che io oggi ho pranzato guardandomi quel video e mi sono sentita in vacanza ecco è un luogo che mi piacerebbe visitare soprattutto la campagna che lo circonda ecco poi sì anche il borgo io amo i borghi quindi tornando al nostro burda maglia è un po' Grazie.